In questa stanza è il mondo, poesia di Maria Giuliana Campanelli, tratta dalla raccolta Femminas. Ti aspetto qui, in questa stanza satura di luce che pregna aria e sensi. Tu, ladro di ogni mio pensiero, non lasci spazio a null'altro. Solo il pensiero di te che tormenta la sette di assure tatuate senza pudore. Non so più cosa sia la quiete, se mai c'è stata quiete. Tutto. Ospite indiscreto che distoglie dell'incombente che non reclama tregua. Ti respiro in ogni goccia di attesa, troppo lunga sempre. La tua assenza mortifica i sensi e li esaspera. Mi dolgono le braccia dell'attesa al suono della tua voce e all'odore di te che mi fa schiava. Mi dolgono le braccia dell'attesa al suono della tua voce e all'attesa. Mi dolgono le braccia dell'attesa al suono della tua voce e all'attesa. Non raccontate la tua voce e no.